Come funziona il mantra di Ho'Ponopono? Leggo la domanda perché è più articolata ed è sono particolarmente interessato a capire meglio il mantra di Ho'Ponopono. Secondo te è efficace? E perché? Lo consigli? Sì, certo, lo consiglio Carlo, è un ottimo mantra, ha tutta una serie di implicazioni, adesso lo vediamo, per cui è un mantra sicuramente che consiglio. Il mantra in realtà consta di quattro fasi attaccate in un processo che è mi dispiace, perdonami, c'è chi dice mi dispiace, ti prego, perdonami, ti amo, grazie. Mi dispiace, perdonami, ti amo, grazie. Se ci pensi è un processo, ciascuno di queste fasi ha un'implicazione e messe in catena, concatenata in questo modo, quindi con questa sequenza, acquisisce un potere particolare. Ora, io non ho letto un libro che comunque mi hanno consigliato in molti e quindi a mia volta per sentito dire, quindi non posso dire, almeno in questo momento non l'ho ancora letto, ce l'ho da qualche parte, mi pare di averne una copia, che si chiama Zero Limits di Giovitale, viene proprio divulgato questo mantra, che è un mantra hawaiano, è un mantra di quelle zone lì, oceaniche. E io lo trovo potente perché ciascuna di queste fasi ha una sua valenza significativa. Mi dispiace, perdono, perdonami, ti amo, grazie. Allora, mi dispiace è una prima fase. Spesso Buddha diceva di cominciare dal vedere la prima nobile della verità, il dolore, l'esistenza di Ducca, della sofferenza. Mi dispiace è un guardare negli occhi della sofferenza. Dicevo prima che se io ho in mano un carbone ardente, finché non apro la mano e non lo vedo per quello che è, non posso lasciarla andare, ho bisogno di prenderne atto. Quindi la prima cosa che faccio è mi osservo, osservo qualche cosa di disfunzionale, quindi mi dispiace che c'è qualcosa in me che può essere evidentemente migliorato e quindi ne prendo atto. Prendo atto e in questo mi dispiace, cioè se io prendo atto di qualche cosa di disfunzionale, sia il volerlo superare, quindi capire che c'è qualche cosa in me che può essere migliorato e dispiacermi perché in qualche modo ne ho fatto uso. E quindi questo è il primo passo. Il secondo passo è cercare di sollevarsi da quello che è un senso di colpa che spesso si accompagna quando prendiamo atto che c'è qualche cosa che non ci piace in noi. Vediamo che sto facendo qualcosa che non mi piace, mi dispiaccio, ma poi mi sento anche in colpa. Ecco, questo senso di colpa non ci aiuta, soprattutto se poi abbiamo danneggiato qualcuno, è utile in qualche modo chiedere perdono. Chiedere perdono è un mantra, quindi noi lo facciamo dentro noi stessi, non c'è necessariamente il bisogno di andare fuori e chiedere perdono. Poi va da sé che se hai fatto del male a qualcuno ti alleggerirà sicuramente chiedere di perdono, ma intanto dobbiamo perdonarci noi stessi. Il perdono nasce comunque da noi stessi e noi stessi che dobbiamo perdonare innanzitutto, anche quando abbiamo fatto noi del male a qualcuno. E quindi perdonami è anche una fase fondamentale per recidere un legame con un'azione del passato. Quindi noi siamo come se avessimo tanti elastici che ci trattengono a delle azioni del passato che, su cui non siamo convinti, di cui ancora rimuginiamo, che ci tolgono energie, come delle zavorre che ci impediscono di andare avanti. Chiedere perdono, perdonare e chiedere perdono, e quindi sentirsi perdonati di conseguenza, perché quando chiediamo perdono l'effetto successivo è quello di sentirci perdonati, è di alleggerirci, è di alleggerirci di questi bagagli, è di sfrondare questi elastici che ci stanno trattenendo al passato. Quindi mi dispiace, ti prego perdonami, e poi c'è una trasformazione, c'è un passaggio da uno stato di sofferenza a uno stato di apertura del cuore, e quindi ti amo. Mi dispiace, ti prego perdonami, ti amo, grazie. Ti amo è quindi la fase di ricongiungimento con l'uno, di ricongiungimento con la parte più nobile di noi stessi, di ricongiungimento con l'amato, con qualsiasi nome tu lo voglia chiamare, con una dimensione più nobile di noi stessi. E grazie, grazie, grazie è il sigillo, il momento in cui possiamo assaporare questo processo, la fine di questo processo. Provare gratitudine è uno degli elementi che ci aiuta a godere di più della vita. Spesso abbiamo molte cose di cui essere grati e a cui semplicemente non pensiamo, anche perché spesso, ahimè, ci pensiamo quando non ci sono più. Abbiamo i denti, per esempio, ma chi ci pensa mai ai denti? Però, quando c'è mal di denti, e te ne accorgi dei denti, e quello che vorresti è non avere mal di denti, ma per tutto il resto della vita non hai avuto mal di denti, ma non sei stato grato per quello. La gratitudine nasce, ahimè, quando non c'è più la salute dei denti, e rinasce quando è cessato il mal di denti, e risorge la gratitudine. Essere grati, invece, perché i denti sono sani, senza bisogno di farli ammalare per ricordarcene, beh, è una bella cosa. Ora, io ti ho fatto l'esempio dei denti sani, ma di quante cose possiamo godere ciascuno nelle proprie vite e non ci pensiamo. E con la gratitudine ci aiuta, in qualche modo, a ricongiungerci con la possibilità di gioire di quello che abbiamo. Spesso stiamo a guardare il bicchiere mezzo vuoto, osserviamo quello che non abbiamo. E tutto quello che abbiamo lo diamo per scontato, non ne godiamo. Tra l'altro, Gio Vitale è anche uno di quelli che ha fatto la legge di attrazione. Io non sono un grande conoscitore di questo filone. Comunque, da un punto di vista, come dire, spirituale, ci sono delle evidenze, no? Comunque, il fatto di provare gratitudine ci apre, comunque, appunto, come dicevo, alla possibilità, e questo viene detto esplicitamente, non da Gio Vitale, da un altro, ma esprimere gratitudine ci apre la possibilità di attrarre l'abbondanza. Cioè, se io sono grato per quello che ho, invece di focalizzarmi su quello che non ho, i miei sentimenti sono di abbondanza. Mi sento in abbondanza, visto che, in qualche modo, la legge di attrazione vuole che piova sul bagnato, la gratitudine favorisce un senso di ricchezza dentro di me che, a sua volta, attirerà ricchezza. E quindi è molto importante anche la gratitudine. Rivediamo quindi quattro passaggi. Mi dispiace, e lo abbiamo detto, è un momento di presa di coscienza, di qualche cosa di disfunzionale. Perdonami il desiderio sincero di volersi migliorare e d'affrancarci, e quindi allontanarci, sfrondare questo legame fatto anche di sensi di colpa, con qualche cosa di disfunzionale. E se ne alleggeriamo, ti amo, ti amo, vabbè, su ti amo mi ci sono soffermato poco, ma penso che ci sono trattati sull'amore. Non basterebbe, veramente non basterebbe un tomo così per parlare di amore. Diciamo che comunque l'amore è sicuramente il sentimento. Si dice che la vita è fatta di amore, si dice che il divino è fatto di amore, si dice... Comunque amare è quello che mi permette di ritrovarmi, di connettermi con gli altri, di ritrovare la via dell'uno piuttosto che la via del frammentato, del duale. E quindi amare è l'emozione primaria, quella che i grandi illuminati sperimentano momento per momento, un grande e profondissimo amore. E quindi ricongiungersi con questa possibilità di amare. E grazie è il sigillo, quello che in qualche modo sigilla questo percorso. Siamo partiti dal dispiacere, siamo passati per il perdono, contattiamo l'amore e poi proviamo gratitudine. E quindi sigilliamo questa esperienza, ne esaltiamo la bellezza e la portiamo più facilmente dentro il cuore. Quindi sicuramente, mi dispiace, ti prego, perdonami, ti amo, grazie, è il mantra Ho'Ponopono che ha una sua valenza e che consiglio assolutamente di fare, se hai voglia di farlo. Se ti è piaciuto il video, lascia un bel like, scrivi anche un tuo commento perché è utile sentire la tua, è arricchiente per me e per gli altri, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e se non hai ancora scaricato la meditazione gratuita, la trovi qua. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.